ciao a tutti sono veronica e sono illustratrice per quanto riguarda il viaggio a me piace viaggiare a piedi con lo zaino in spalla è un modo di viaggiare che ti permette di guardarti attorno e di incontrare tantissime persone un modo di viaggiare molto lento ve lo faccio vedere con lo zaino ecco qui Grazie a tutti e buona giornata!